Ciao ragazzi, eccomi qui, oggi è arrivato un nuovo pacco da Pedal Room, l'andiamo a scortare insieme, è un video unboxing, ci piacciono sempre tanto. Ecco qui la borsa ragazzi, dentro c'è la Pedal Ball, scartiamo anche questa. Eccola qui, bellissima, questo Blu Rust. Sono pedaliere fantastiche ragazzi, io mi ci trovo benissimo, sono fatte bene, sono molto resistenti, sono cose già che ho detto in un altro video. Comunque la pedaliera è questa. Eccoci qui ragazzi, ho montato come potete vedere la mia Moer G300 sulla pedaliera di Pedal Room, non vi ho fatto vedere il montaggio ovviamente, ma molti mi chiedono come si fanno a montare queste pedaliere qui. Ve lo mostro subito, non si usa il velcro, ma bensì la Pedal Room vi dà un kit dove poter avvitare le pedaliere, i pedali o quello che sia, sopra le loro pedaliere. Ed è una cosa molto funzionale. Ecco qui vi faccio vedere le foto, come vengono montate. Questa qua invece è la borsa, dove va contenuta dentro la pedaliera, come vedete è molto capiente, è fatta benissimo, è tutto handmade in Italy, così potete mettere cavi e tutto quello che volete. Io di solito ho questa abitudine che nelle borse delle pedaliere metto sempre un botto di roba, anche eventuali backup. Io ringrazio ancora una volta Pedal Room, andate sul sito e inoltre potete usufruire di un mio sconto inserendo quello che vedete nell'info box. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanella. Ciao!